Più di 600 bambini al Fabretto di Gorizia per la bici motricità. La manifestazione, anche quest'anno, ha visto gli alunni delle scuole elementari della provincia cimentarsi in semplici prove sportive, un modo per educare le nuove generazioni a svolgere con regolarità salutari pratiche sportive. La provincia di Gorizia è uno dei partner che sostiene il progetto a bici motricità, un progetto che vede protagonisti bambini di questa provincia, è diretto e coinvolge tutte le scuole primarie presenti sul territorio, crede che lo sport sia un mezzo fondamentale per la promozione del benessere e quindi in modo particolare per aiutare i bambini più piccoli a un approccio giusto e sano con la pratica dell'attività sportiva, visto che lo sport è innanzitutto salute e conoscenza di se stessi e delle proprie capacità. 10 diverse stazioni di gioco compongono il percorso lungo il perimetro del campo sportivo, ma l'evento del 22 maggio è solo la conclusione di un lavoro svolto dagli educatori durante tutto l'anno scolastico, un lavoro fatto di gioco, di divertimento ma anche di educazione al movimento fisico. Grazie per la visione!